la moto era in mezzo al fiume se mi faccio male sei fuori vuota a secco ma l'ho riempita stava e domenica dovevamo uscire come cazzo fa essere vuota ma domenica dovevamo uscire l'ho riempita e non l'ho più usata o sono andata giù in garage a usarmela senza di non darmi la cedra i nipotini se la sono bevuta ma ti si è spenta proprio dove lì in mezzo poi l'ho riempita fino a 4 mesi spaccato no tutto in miscina aiuto aiuto io ho passato da dietro è andato in strada e no ma cosa faccio mi scelta qui dentro no capito lì dentro no nello zaino statico c'è anche il tigetto da usare da fuori no capito no capito